Siamo molto dispiaciuti per questo risultato perché è stata una partita molto combattuta, abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo costruito diverse occasioni, nel secondo è stata una partita più equilibrata, un po' più sporca e quindi uscire con zero punti è un dispiacere però anche uno stimolo per mettere in discussione tutto quanto il nostro lavoro e ogni particolare e quindi secondo me siamo in un momento in cui stiamo costruendo qualcosa di importante e quindi ora c'è proprio bisogno di grande unione, di grande lavoro per ottenere i risultati che rispecchino quello che stiamo facendo, il lavoro che stiamo facendo. Questa è stata una partita comunque di una squadra che ha mostrato il suo gioco e ha affrontato la partita col piglio giusto e aggredendola e non certo subendo la partita, quindi questo è un fattore importante da portare avanti e purtroppo il risultato oggi è negativo e quindi questo sicuramente può portare a vedere le cose con un pizzico in più di negatività, noi il nostro mestiere è cercare di mantenere sempre lucidità e lavorare secondo la nostra strada, secondo i nostri concetti con grande impegno come stiamo facendo. Adesso c'è una partita molto stimolante e sono molto contento di andare ad affrontare una squadra importante nel loro stadio e metterci le nostre armi e combattere come sappiamo fare noi e poi vedremo come andrà.